Nella scheda annotazione gruppo quota di GisterCAD sono presenti delle funzioni che permettono di allineare i testi delle quote. Si possono spostare i testi allineandoli a sinistra, a destra, centrati o ancora seguendo un angolo di inclinazione. Vediamo subito come funzionano questi comandi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.